Cari amici, è Norberto Nicolai che vi parla, cari amici non so se si è sentita e che posso dirvi, non faccio la trasmissione oggi per motivi personali e di contrasti con alcune persone perciò chi lo sa, sapete che c'è, è pazienza, si chiudono le porte piene di coperte di escrementi e magari sapete qualche bella porta elegante di ebano, di legno pregiato, comunque ciao a tutti